C'è un Cristo diverso in questa mostra? Sì, c'è un Cristo diverso che ha suscitato un po' di scandalo, tra virgolette. Quest'artista, che è Luna Marrali, ha voluto rappresentare due temi importanti. Uno è il femminicidio, quindi le sofferenze un po' che ha avuto Cristo. Infatti lei per realizzare questo lavoro ha preso un Cristo morto, fiammingo, l'ha sezionato e poi ha inserito, lei si è fatto l'autoritratto come donna. Ma a questo voglio che parla un po'... Ecco, è un corpo di Cristo quindi che è universale. Sì, un'altra idea di Luna è stata proprio quella di inserire parti di un corpo chiaramente maschile con parti di un corpo femminile, di se stessa tra l'altro è un autoritratto. E questo vuole proprio indicare l'universalità del messaggio cristiano, quindi Cristo che in realtà non è solo Cristo uomo ma anche Cristo donna. Quindi realizzare un'androgenia che non è assolutamente in contrasto con la morale cristiana, ma che anzi vuole proprio canalizzare ed esprimere il messaggio quasi innovativo, forse per certi versi, di un Cristo non normativamente uomo ma anche donna, quindi universale e tra l'altro è realizzato con una tecnica molto forte secondo me perché si alternano un realismo tipicamente fiammingo, che è quello delle parti del Cristo e poi la volontà di realizzarlo anche in bianco e nero che crea ancora più contrasto, voglio dire, le parti in cui lei fa il suo autoritratto. Ed è sempre realismo ma espressionista e si collega al femminicidio realizzando queste pennellate quasi graffiate. Quindi diciamo che ogni elemento è significativo in questo quadro. Grazie.